Siamo con il professor Schivardi della LUIS di Roma e chiediamo al professore intanto un primo commento su questi dati che abbiamo sentito su un'economia in ripresa, se lei ci si ritrova a livello nazionale e se anche come università, insomma li confermate questi dati? Sicuramente l'evidenza ormai è molto concorde, c'è una ripresa, non è una ripresa travolgente, siamo ancora su tassi inferiori rispetto a quello degli altri partner europei, però io credo che la cosa più particolare che esce da questi dati, che non si vede da altre fonti, è la qualità delle imprese che possono agganciare questa ripresa. Questo è un dato che già emergeva qualche anno fa ma che si è andato consolidando, le imprese italiane, le PMI italiane escono da questa crisi in realtà rafforzate, rafforzate a livelli anche sorprendenti, in particolare a me colpisce molto il dato sul leverage delle imprese che è sceso di quasi 40 punti. Tradizionalmente in Italia si è sempre detto che le imprese erano povere e gli imprenditori ricchi, che si metteva poco capitale di rischio e molto debito e la crisi sembra rappresentare un cambiamento strutturale da questo punto di vista, cosa che a me non sembra sia sufficientemente compresa ed apprezzata. Nel senso che durante la crisi abbiamo visto certo un calo del debito, quindi parte del calo del leverage è spiegabile da quello, ma c'è anche un aumento del denominatore nel senso che il capitale di rischio è aumentato, le imprese hanno trattenuto più profitti in azienda, gli imprenditori hanno probabilmente utilizzato anche l'ACE, l'incentivo introdotto dal governo Monti per aumentare il capitale di rischio e quindi la parte di capitale che è attribuibile all'equity, al capitale di rischio è aumentato e questo secondo me è un'ottima notizia prima di tutto perché vuol dire che le imprese ora se la ripresa si consoliderà sono in grado di prendere più debito senza aumentare particolarmente il proprio profilo di rischio e quindi investire e crescere e comunque più in generale perché in un sistema che vuole diventare più propenso all'innovazione il livello di capitale di rischio deve crescere perché le innovazioni vanno sostenute con capitale di rischio. Quindi questa mi sembra una notizia importante, una notizia strutturale che sta cambiando veramente il profilo delle nostre PMI. Ecco, professore, proprio su questo profilo, diciamo su questa crescita dell'imprenditoria italiana possiamo dire che anche i servizi di gestione del credito, i servizi di informazione sul credito quindi sono stati magari maggiormente compresi e sono stati anche una chiave della ripresa, cioè c'è stato secondo il suo punto di vista una crescita anche culturale dell'imprenditore italiano medio e quindi magari un approccio più scientifico nell'approccio alla clientela usufruendo magari di quei servizi di informazione e di gestione della clientela di cui prima magari erano a beneficio solo delle grandi realtà imprenditoriali, delle grandi banche eccetera. Guardi, su questo in realtà io non conosco evidenza fattuale quindi uno si deve basare un po' sulle proprie percezioni. Tradizionalmente le PMI italiane a conduzione familiare erano sempre piuttosto chiuse ad apporti di credito esterno, tra l'altro anche ad apporti di competenze esterne quindi spesso erano anche riduttanti magari ad assumersi un manager della parte finanziaria. Ovviamente con il ricambio generazionale qualche miglioramento si sta avendo, rimane il fatto che però molte imprese ancora hanno zero credito bancario in parte può essere perché magari le banche non danno credito ma io credo che rimanga ancora una certa riluttanza degli imprenditori italiani ad aprirsi al credito. Da questo punto di vista sicuramente la tecnologia sta aiutando molto perché servizi che tradizionalmente erano accessibili solo alla grande dimensione ormai con la digitalizzazione sempre di più stanno diventando accessibili anche alle piccole imprese e lo scoring tutto il lavoro che tra l'altro Cerve e le altre imprese fanno da questo punto di vista può aiutare queste imprese ad aprirsi a diventare più appetibili anche per il mercato del credito. Quindi io credo che il processo ci sia ma ci sia ancora strada da fare in termini di educazione finanziaria e di apertura delle nostre imprese ad apporti sia di capitale sia di competenze al di fuori dell'ambito familiare. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci.